In giugno si farà una festa allo Stadio Maradona, trasmessa in onda su Rai 2. Mi raccomando, festeggiate con noi perché sarà la chiusura dei festeggiamenti di questa stagione. Sarà la chiusura dei festeggiamenti, ma sarà anche l'inizio perché a Napoli si festeggia sempre! Gli italiani sono noi! Allora, vai tu, fai tu gli onori di casa. Allora Presidente, grazie e diciamo questo è lo spettacolo più grande che si può mai immaginare. Grazie a loro! Grazie a te! Ragazzi, ragazzi! Fare a Napoli è un privilegio, non è un obbligo! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te!